Il nostro Tribunale vive una situazione in cui è necessario provvedere ai livelli minimi di efficienza. Il Presidente del Tribunale di Prato, Francesco Gratteri, ha aperto così l'Assemblea Pubblica promossa dal Comitato Direttivo della Camera Penale, che un mese fa ha proclamato uno stato di agitazione per calamitare l'attenzione di cittadini e istituzioni sulle carenze strutturali e di personale amministrativo del Palazzo di Giustizia. Al momento la scopertura totale dell'organico e di questo comparto ammonta al 31%. Gli stessi livelli rilevati nell'ultima ispezione ministeriale conclusasi nel novembre 2017. Dovrebbero arrivare quattro magistrati in più a Prato, ma di assistenti giudiziari necessari per celebrare le udienze non se ne parla. Noi nel nostro documento con cui dichiaravamo lo stato di agitazione chiedevamo un programma, chiedevamo un progetto perché gli interventi spot anche quando sono importanti non risolvono. C'è stato documentato in particolare che negli anni passati c'era stata anche un'infornata di personale amministrativo e nel giro di brevissimo tempo se ne sono andati via tutti, che è un bruttissimo segnale perché significa che la gente si trova male e scappa probabilmente. Io ho fatto diverse interrogazioni al ministro Bonafede, una addirittura è sui social, mi ha risposto il sottosegretario in commissione, quantomeno in Parlamento si parla del Tribunale di Prato, credo sia una cosa fondamentale. Però una volta diciamo su tutte, un po' tutti siamo d'accordo sul lavorare insieme, tutti intendo tutte le forze politiche, sul lavorare insieme per cercare di migliorare la situazione. Per quanto riguarda l'edilizia giudiziaria, il ministero ha destinato per il 2020 540 mila euro per il rifacimento dell'impianto di condizionamento e 90 mila euro per la sistemazione della cabina elettrica. Gratteri ha anche riferito che in questi giorni inizieranno i lavori per ripristinare almeno un altro ascensore. Dal procuratore Giuseppe Nicolosi è arrivato un appello, rimettiamo le strutture logistiche in mano ai comuni. Il frazionamento di competenze fra ministeri, provveditori e lavori pubblici, che è quello che dovrebbe poi eseguire questi lavori, comporta dei tempi pubblici che non consentono quindi di dare risposte immediate a queste esigenze. Quando la gestione dei palazzi di giustizia era in mano ai comuni, la situazione era oggettivamente più efficiente. Io su quello non ho nessun tipo di problema, per quanto è un ulteriore carico in più. Sarebbe bello che in quell'accordo che fu firmato nel 2016, appunto, in cui era il ministero e si riprendeva la manutenzione degli immobili dei tribunali d'Italia, tutto funzionasse perché effettivamente avrebbe più senso. Però se serve per dare un decoro e una funzionalità a questa struttura, noi ci siamo. Le risorse che avete speso fino a quella data vi sono state rimborsate? Arriveranno. E intanto si attende la visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis, che contrariamente a quanto programmato all'inizio sarà a Prato su invito del sindaco, non il 23 gennaio, ma il 30. Il programma naturalmente sarà concordato con il sindaco, che è stato il promotore di questa visita di Giorgis e che è in contatto con lui. Credo che voglia approfittare di questa presenza, di questa disponibilità per farli visitare sia la struttura carceraria che quella del tribunale, avere incontri con gli operatori di entrambe le strutture.